Allora cominciamo e do subito la parola al direttore della scuola normale, professor Fabio Beltram. Prego Fabio. Grazie Michele, buongiorno a tutti. È un vero piacere, un onesto piacere darvi il benvenuto alla scuola, da parte di tutta la scuola e mio in particolare. La scuola, la filosofia, le discipline collegate, gli studi collegati ci sono da sempre, da quando esiste, quindi si dice oggi che è uno dei nostri core business. Ma è un esperimento molto più recente, quello di cui fa parte questo evento di oggi. È un esperimento che nasce nel 2012, come forse sapete, con l'istituzione del centro di filosofia della scuola, voluto dal professor Ciliberto. È quindi un esperimento giovane, che però ha già dato segni di vitalità e di essere un laboratorio e una palestra molto utili nella vita culturale della scuola. All'interno di questo, la collaborazione con la Fondazione San Carlo, che mi fa piacere ringraziare per questa partnership, ha un ruolo molto importante perché ci permette di aprire una finestra sul mondo, nel senso largo della politica, che è particolarmente attuale. Anche la riflessione di oggi, mi complimento dall'esterno e da non esperto per la scelta, mi sembra particolarmente puntuale e si rallaccia bene anche al convegno dell'anno scorso, quello sulla democrazia diretta. Anche l'oggi, penso, sarà uno stimolo utile e una fonte di riflessioni per questa giornata. Ha un solo difetto questa giornata, che coincide per volontà né mia né del professor Ciliberto con una serie di riunioni degli organi della scuola, per cui sia io sia il professor Ciliberto non saremo qua, perché abbiamo in sequenza una serie di riunioni che cominciano tra poche e vanno avanti fino alla serata. Nonostante questo vi auguro buon lavoro, mi spiace non poter ascoltare e imparare qualcosa, ma sono certo che la giornata sarà utile e fruttuosa e vi ringrazio tutti ancora per essere qui.